La nostra regione purtroppo ha un triste primato. L'edilizia pubblica scolastica è vecchia, un 20% dei nostri edifici scolastici sono vecchi, la media nazionale è del 17, ci sono province che arrivano ad avere più del 30% di edifici scolastici vecchi. Quindi va fatto un grande piano di rilancio dell'edilizia pubblica scolastica e in questo grande piano di rilancio naturalmente deve essere presente anche un rilancio dell'efficientamento energetico, quindi creare anche comunità energetiche per le scuole in modo tale che anche le scuole facciano parte di quella transizione ecologica che nella nostra regione è, come in tutto il paese, necessaria. Grazie. Grazie.